Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima mattinata insieme Dalla parte degli animali. Buongiorno a tutti. E lei Stella chi è? Lei è Carola, è stata abbandonata a Catanzaro fuori da un canile che aveva soltanto 50 giorni. Ciao Michela e ciao amici di Dalla parte degli animali. E noi ci vediamo domenica prossima con una nuova domenica in famiglia una nuova domenica d'estate, una domenica insieme una nuova domenica dalla parte degli animali.